Io mi chiamo Marco, vengo da Milano e nella vita lavoro nel settore della sicurezza. Poi con lungo andare si è perso tutto. Facendo dei preventivi, facendo dei preventivi in giro, cercando su internet, cercando... Quello che mi ha ispirato più fiducia sia qualità che prezzo è stato qua. Mi ha dato tanto fiducia l'accoglienza che c'è stata. Il sorriso, il vostro sorriso. Io mi sento bene, mi trovo bene e mi sta cambiando veramente sentire la bocca con tutta un'altra cosa. Anche l'equipe medica è stata proprio spettacolare. Infatti ho già fatto degli inseriti su Facebook, già l'ho fatto. Quindi le mie cose le ho già dette tutte per il Facebook. Quindi mi sono trovato veramente bene proprio in tutto. Già l'avevo portato senza conoscere, già ne avevo portato uno con me. Quindi che già le pare tutto il lavoro. E' una persona alziana che è contenta anche lui di essere qua. Domani di dispiaggia andarsene. Anche lui. Quindi consiglio a chi è, anche ai miei colleghi. Tanti miei colleghi, però non scegliati. Quindi che è veramente, veramente bello. Una bella esperienza ecco. Allora. Allora. Sì